Oggi sino alle 16.59 giornata di agitazione, sciopero della personale della direzione regionale Abruzzo di Trenitalia proclamato dalle organizzazioni sindacali dell'UGL. Non sono previste variazioni per i treni a lunga percorrenza come frecce e interseti, sciopero che torna a distanza di quattro anni. Francesco Di Natale, segretario provinciale UGL, Pescara Chieti. Quali sono le vostre rivendicazioni? Una vivibilità dei turni molto bassa, almeno per alcuni turni portati al limite del regolamento e alla situazione delle biglietterie che sono letteralmente in ginocchio. Abbiamo anche gravi problemi per quanto riguarda le officine e anche per quanto riguarda tutti quelli che sono gli ambienti di lavoro del settore uffici. Biglietterie in ginocchio in che senso? Biglietterie che oltre a fare l'azione di bigliettazione fanno soprattutto un'opera di informazione, c'è una carenza di personale molto sentita nell'ambiente che mette addirittura a rischio anche le ferie del personale e le aperture stesse delle biglietterie in tutta la regione. La percentuale di adesione in questo momento? Siamo molto contenti dell'adesione a questo sciopero, le biglietterie come potete ben vedere sono chiuse e anche per quanto riguarda l'officina è stata veramente rilevante. È sabato e quindi non c'è grande movimento nelle stazioni? Non era nostra intenzione colpire i pendolari, abbiamo soltanto voluto dare visibilità a tutte quelle che sono le proteste dei lavoratori della direzione regionale Abruzzo cercando di far arrivare questo messaggio sia ai comuni che alla regione che prendano in considerazione quelle che sono le condizioni lavorative del personale di Trenitalia. Il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma è un tema di grandissima attualità, i vantaggi sarebbero innegabili, qual è il punto di vista di Francesco Di Natale? Il mio punto di vista si associa a quello che è anche di tutto il mondo politico, questa è un'opera strategica di importanza fondamentale per la nostra regione che porterebbe a unire Pescara con Roma in brevissimo tempo e con tutti i vantaggi conseguenti. Abbiamo la necessità di questa infrastruttura che diventa strategica, spero nella conclusione dei lotti il prima possibile e nella prosecuzione dei lavori per quanto riguarda tutta l'opera nel suo complesso.